Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio, roccaforte dove mi sono recato una tappa è sempre stata fissa, l'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la fortificazione della salvezza, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto, o per meglio dire una serie di prodotti, che sono certo attireranno l'attenzione degli appassionati del primo gioco di carte collezionabili della storia. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia il set di accessori targati Ultra Pro creati appositamente per il trentesimo anniversario di Magic the Gathering. Il set vedrà quattro accessori, bustine protettive, deck box, playmat e raccoglitore a 12 tasche. Le sleeve della serie Apex, ovvero la punta di diamante della casa americana, verranno custodite in una scatola che riprenderà le colorazioni della trama stampata sulle bustine. Ed attraverso un'elegante apertura a cassetto potrete accedere al contenuto della confezione, dove saranno presenti le 105 sleeves che proteggeranno o il vostro commander o due dei vostri deck preferiti. La trama delle bustine risulterà, a mio parere, meravigliosa, dapprima perché non si tratterà di una stampa fatta su una lamina e poi incollata direttamente sulla struttura principale. Tutt'altro, qui ogni simbolo o rifinitura è stata direttamente impressa sulla sleeve e la grafica riporterà, oltre allo stemma del trentesimo in basso a destra, alcune delle icone dei set che hanno fatto la storia di questo gioco, come ad esempio Alpha, Beta, Ananged, Waterlight, Stronghold, Saga ed Eredità di Urza, Legioni, l'ottava edizione e molte altre ancora. Matte sul dorso quindi e trasparenti glare sulla parte frontale, queste bustine vi permetteranno di inserire una qualsiasi carta al loro interno usufruendo anche di eventuali inner, se vorrete garantire ancora più protezione al vostro arsenale. Mescolare il deck inoltre risulterà piacevole e una volta terminata l'operazione sarete pronti a concentrarvi al 100% sul match che vi ritroverete ad affrontare. Ma un mazzo ben protetto deve avere anche un posto dove poter essere trasportato, ed è proprio per questo che l'Halk of Age risponderà a tale esigenza. Questo deck box presenterà in alto lo stemma del trentesimo con textura argentata e numerose icone di colore nero dei vari set presenti in Magic, intagliati direttamente sulla superficie bianca, che occuperanno tutte le facciate, sia frontale che dorsale, che laterale destra e sinistra. Infine, saranno riportati unicamente il logo del TCG in questione, quello della casa produttrice, e alcune informazioni legali del caso sul fondo dell'accessorio. Una volta aperto l'articolo potrete accedere comodamente al contenuto attraverso due spazi dedicati che vi faciliteranno l'estrazione del mazzo ricavati direttamente nella struttura. Il coperchio a lingua inoltre riporterà all'interno, su sfondo nero, gli stessi stemmi dell'espansione che circondano l'intero accessorio, ma in questo caso realizzati in materiale lucido, così da poterli osservare meglio se esposti contro luce. E così, una volta che avrete utilizzato il vostro deck preferito, potrete riporlo all'interno del prodotto per metterlo al sicuro dai fattori esterni, e per farlo al meglio vi potrete affidare alle quattro calamite integrate alla struttura principale, due delle quali presenti sul retro ed altrettante, accompagnate da un'ulteriore cerniera sul fronte, che impediranno ad ogni singolo elemento incluso nel compartimento principe di fuoriuscire accidentalmente. Ma attenzione, ricordate una cosa fondamentale una volta chiuso il deck box, dovrete assicurarvi che la cerniera assolva il suo compito, e per starne certi dovrete sentire letteralmente un clac. Mi spiego meglio. Possibilità che il coperchio si apra, possibilità zerate. E quando anche l'ultima delle sicurezze verrà attivata, da questa cassaforte non uscirà più nulla, garantito. Vorrei comunque avvisarvi su un altro fattore importante. Quando avrete attivato la cerniera, aprire poi il deck box potrà sembrare un'impresa, ma niente paura. Impremendo una leggera pressione verso l'esterno o su una delle parti angolari della linguetta frontale, il meccanismo di incastro verrà meno, permettendovi così all'occorrenza di mettere le mani sul vostro grimorio in tempo zero. Di certo però non potrete affrontare un incontro senza un valido supporto da mettere tra le carte e il tavolo da gioco, ed è proprio per questo che in vostro soccorso arriverà l'HoloFoil Playmat. Il tappetino a tema trentesimo sarà il classico articolo di buona fattura garantito Ultra Pro, con cuscitura esterna a rafforzarne la struttura, che con il tempo non vedrà la parte superiore e la gomma inferiore staccarsi rendendo il Playmat completamente inutilizzabile. Sulla superficie inoltre, che presenterà una finitura brillantinata che conferirà per l'appunto il termine Holofoil a questo accessorio, saranno presenti quasi tutte le espansioni del gioco, stampate assieme al logo dell'anniversario, in basso a destra, ed è la casa produttrice sul lato opposto. Assieme al deck box e alle sleeves, che abbiamo già trattato, questo vi permetterà di sfoggiare un kit davvero straordinario, sia a livello di bellezza che di efficienza. Dopo aver parlato del lato giocato, c'è anche quello collezionistico da prendere in esame, ovviamente. E per tutti coloro che vorranno avere i propri tesori in un raccoglitore dedicato, di certolo Zippered Pro Binder sarà la scelta giusta. Il prodotto in questione riprenderà, come per gli altri accessori della serie, il pattern e il colore. Infatti anche in questo caso, troverete il logo del trentesimo in basso a destra, a trama argentata, con le icone incise in nero dei set che hanno segnato l'ascesa del primo TCG della storia sulla parte frontale, solo questi ultimi sul retro, e il solito numero dell'anniversario in alto, con le iniziali della casa produttrice in basso, entrambi incisi e con tonalità argentata sulla rilegatura. Essendo uno Zippered, sarà presente una cerniera, che manterrà ulteriormente al sicuro da polvere e fattori esterni le carte che deciderete di inserire al suo interno, e potrete aprirla attraverso una lampo che, anche qui, direttamente punzonato sul metallo, riporterà il logo del trentesimo. Quindi, aperto l'accessorio, troverete all'interno, come per l'alcove, una trama su sfondo nero, sia sulla seconda che terza di copertina, raffigurante le tipiche icone dei set a tinta lucida, visibili soprattutto contro luce, e ben 20 pagine con 12 tasche l'una fronte-retro ad inserimento laterale. Questa tipologia di tasche vi permetterà di mantenere, ancora di più al sicuro dalla polvere, le carte che custodirete all'interno dell'album, e grazie anche alla chiusura zip, potrete letteralmente mettere in una cassaforte portatile la vostra raccolta più preziosa, tenendola sempre a portata di mano. Di solito non utilizzo accessori targati ultra pro, ma con questo quartetto, devo dirlo, la casa americana ha svolto davvero un gran bel lavoro. Prima di concludere, volevo ringraziare i signori di Fantasia Store per aver messo a disposizione i prodotti trattati in questo contenuto. Come sempre vi lascerò tutti i link, sia degli accessori che del sito web, in descrizione. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti, dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica, non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!